Musica Buonasera da Infostudio di 8 febbraio Cercavano droga i poliziotti della squadra mobile di Cosenza Ma si sono trovati di fronte a ben di più ed è stata grande la loro sorpresa Quando in un intercapedine all'interno di una palazzina popolare di Via Popiria Siamo quasi al confine tra la città di Cosenza e quella di Rende Hanno trovato un arsenale fornitissimo di armi Adesso si sta indagando, si indagherà per capire nella disponibilità di chi fosse E soprattutto poi le armi verranno tutte inviate al rispe Gli accertamenti balistici per capire se abbiano sparato di recente Se possano essere state usate anche in episodi di criminalità A Cosenza c'è stata per anni una guerra di mafia anche piuttosto cruenta Alto impatto era l'operazione C'erano i cani antidroga, le unità cinofili arrivate da Vibo Valencia E droga è stata trovata Ma poi quando è stata scoperta questa intercapedine Vedete come i poliziotti si calino all'interno di essa Devono farlo di spalle E poi dentro sono state trovate moltissime armi Si tratta di un Kalashnikov con tre caricatori Di un fucile calibro 16 Di una pistola mitragliatrice calibro 9 Di un revolver Di altre tre pistole Una calibro 7,65 Una calibro 9 e una 9x19 E di centinaia di munizioni Stato anche trovato un giubbotto antiproiettile di tipo morbido Cioè di quelli che catturano il proiettile in volo E ne disperdono la forza d'impatto E 370 grammi di eroina E tre bilancini di precisione In una conferenza stampa Il questore di Cosenza Giancarlo Conticchio Ha spiegato che le armi erano tutte ben oliate e pronte Per essere usate Quindi ripeto Si era alla ricerca di droga E poi a parte tutto 370 grammi di eroina I tre bilancini di precisione Che sono stati trovati Confermano la bontà della pista Ma poi c'è stato questo ritrovamento Che ha reso l'operazione Ancora più importante La perquisizione in questo seminterrato Che avete visto Di una palazzina popolare Di via Popiria E da oggi La squadra mobile di Catanzaro Ha invece arrestato per omicidio Due presunti esponenti Della Cosca Giampà di La Mezzia Terme Che erano peraltro già in carcere Si tratta di Vincenzo Arceri Di 58 anni E di Giovanni Notarianni Di 47 Sarebbero loro Il primo sarebbe stato il mandante Ed il secondo avrebbe avuto un ruolo Nella fase esecutiva Ancora non è stato Però specificato Se sia stato lui O anche lui A sparare Nell'omicidio di Giovanni Gualtieri Che venne assassinato Il 13 novembre del 2004 Giovanni Gualtieri Era ritenuto un esponente Della Cosca Cerra Torcasio Gualtieri Era il periodo Stiamo parlando Ripeto Della fine del 2004 In cui la guerra di mafia La Mezzia Terme Era in pieno svolgimento L'omicidio avvenne In una sala giochi Nel centro di La Mezzia In una zona molto affollata E nella sala giochi stessa C'erano molte persone Al momento in cui Avvenne l'assassinio Un uomo si è gettato Da un treno in corsa Nel primo pomeriggio di oggi Restando ferito In maniera non grave Il fatto è accaduto Stiamo vedendo alcune foto Inviateci dal comando provinciale Dei vigili del fuoco di Catanzaro È avvenuto Dicevo Lungo la linea Soveria Mannelli-Catanzaro Delle ferrovie Della Calabria Tra le stazioni Di Madonna del Pozzo E Cavorà Non si è ancora capito Ed è in fase di accertamento Questo Per quale motivo Quest'uomo si sia gettato Dal treno Che ripeto Era già in movimento L'uomo è stato recuperato Dai vigili del fuoco E poi consegnato Al personale del 118 Gli ha prestato le prime cure sul posto Prima che venisse trasportato in ospedale Ancora una volta Sottorino Come le sue condizioni Per fortuna Non siano gravi 40 alloggi Già consegnati Tra Natale E gli ultimi giorni 14 lunedì E altri 14 martedì scorso E poi Entro fine marzo Un intero stabile Per lenire L'emergenza abitativa A Catanzaro L'ATERP consegna Degli appartamenti Che erano in fase Di ristrutturazione Emergenza abitativa Attenuata A Catanzaro Dove si è proceduto Alla consegna Di 28 alloggi Dell'ATERP Di Viale e Isonzo Che erano stati Sottoposti ad interventi Di ristrutturazione E che sono stati Consegnati Agli assegnatari A seguito Delle procedure Di attuazione Del protocollo Siglato Da Comune E Prefettura Di Catanzaro E Regione Calabria Per la prevenzione Ed il contrasto Alle occupazioni Abusive Degli alloggi Di edilizia pubblica Gli appartamenti Che sono stati Consegnati E che si aggiungono Agli altri 12 Le cui chiavi Sono state date Agli aventi diritto Poco prima Dello scorso Natale Si trovano Nella zona sud Di Catanzaro In un quartiere Popolare Purtroppo noto Per i problemi Tipici delle periferie E caratterizzato Da forte marginalità Le assegnazioni Mettono fine Ad una situazione Doppiamente grave Dal punto di vista Sociale Perché le famiglie Entrate in possesso Degli appartamenti Attendevano Un alloggio Da diversi anni E sotto l'aspetto Del ripristino Della legalità In una zona In cui spesso All'abusivismo Si sono legati Fenomeni di micro E macro criminalità Ora l'operazione Proseguirà con la consegna Entro la fine di marzo Ai nuovi inquirini Di un intero stabile In cui stanno Per essere ultimate Le attività Di ristrutturazione Per fine aprile Dovrebbe essere concluso Questo primo intervento Su Via Leisonzo Che alla fine Consegnerà Circa 54 alloggi Ovviamente Procediamo poi In altri quartieri Di Catanzaro Doverò Ancora una volta Ringraziare Il prefetto Che purtroppo Ha lasciato La prefettura Di Catanzaro Per un importantissimo Incarico Ma spero Che si possa Seguire il suo esempio Non solo a Catanzaro Nella continuità Ma anche nelle altre città Perché tutto questo È stato reso possibile Grazie ad una sinergia Tra istituzioni Questo risultato È dovuto Grazie alla sinergia Che c'è stata Tra l'Aterpe Calabria La prefettura Il comune di Catanzaro E dobbiamo dire Grazie anche Alle imprese Che hanno rispettato I tempi di consegna Diciamo degli alloggi E hanno fatto pure Un ottimo lavoro Rispettando Tutte quelle che sono Diciamo Le clausole Contrattuali Prima abbiamo visto La scoperta Di droga A Cosenza In via Popiria Che poi ha portato Alla più importante Ritrovamento di armi A Corigliano Calabro Invece un uomo Che aveva già Precedenti penali Per droga E quindi era noto Alle forze dell'ordine Che ha nascosto Droga Marijuana In due sacchi Per i rifiuti E' stato arrestato Si chiama Vincenzo Aquino 36 anni In una pattumiera All'interno di un magazzino Adiacente La sua abitazione Appunto Sono stati trovati 200 grammi Di marijuana Siamo un paese Che invecchia Lo sapevamo Siamo un paese In cui si fanno Sempre meno figli Anche questo sapevamo Ma adesso tocchiamo Il punto più basso Per quanto riguarda Le nascite Il calo Delle nascite E purtroppo Anche il saldo Che continua ad essere Negativo Tra nati Tra vivi e morti Nati e morti Continua ad aumentare Allora L'Istat Che nel suo bilancio demografico Propone questi dati Su cui non si può Non riflettere La popolazione residente Al primo gennaio scorso Era scesa A 60 milioni E 494 mila persone Con una diminuzione Di 100 mila unità Rispetto all'anno precedente L'1,6 per mille In meno Inoltre Si è registrato Un nuovo minimo storico Per le nascite Che hanno toccato Il picco del meno 2% Con solo 464 mila Nuovi nati A fronte Di 464 mila Neonati Sono morte 647 mila persone Che sono 31 mila In più dell'anno scorso Cioè del 2016 Ed il saldo naturale È dunque Negativo per 183 mila unità Tra 2016 e 2017 Ci sono Abbiamo perso Diciamo 183 mila italiani Secondo il rapporto Sono aumentati gli stranieri Poiché il saldo migratorio È positivo Per 184 mila unità E anche le immigrazioni In genere Che sono pari A 337 mila La speranza di vita Invece Nel nostro paese Pressoché stabile Lo è Però un po' di meno Al sud Dove è più bassa Rispetto sia A quella media Per le donne Che per gli uomini Parliamo Della primavera Dei teatri Adesso E soprattutto Del progetto Europe Connection Che tende a valorizzare Le nostre compagnie Ed anche Quelle del resto D'Europa Progetti Tre all'anno Per un triennio Che sono stati Sostenuti Dalla regione Calabria La drammaturgia europea Irrompe in Calabria Grazie a Europe Connection Un progetto internazionale Ideato da Primavera dei teatri E presentato Presso la cittadella regionale Si tratta Di un lavoro Che punta Alla diffusione Della nuova Dramaturgia europea Attraverso la messa In relazione Con la produzione Artistica Della nostra regione Nell'arco Di un triennio Il progetto Mira a sostenere Il lavoro Di nove Dramaturghi stranieri E di altre Tante compagnie calabresi Tre per ciascun anno Creando opportunità Per valorizzare I talenti locali Ed aprendo nuove Prospettive Per l'intera regione E' un progetto Triennale E' un progetto europeo Che coinvolge Diversi autori Provenienti da Diversi paesi Dell'Europa E l'abbiamo messo In relazione Con degli artisti Regionali Quindi è un progetto Che vuole Fare un'azione Di promozione Della drammaturgia Europea In Calabria E Allo stesso tempo Fare un'azione Di sostegno Per la produzione Artistica Della nostra regione E abbiamo iniziato Adesso una settimana Di residenza Con un'autrice Francese Alexandra Badea Pluripremiata Tradotta In vari paesi europei E messa in scena In tanti teatri nazionali Importanti in Francia Che ha lavorato Con una compagnia Calabrese Diretta da Saverio Tavano E ci saranno poi Altre due residenze Con un autore polacco E un autore cieco Questa volta a Cosenza Tra febbraio e marzo E il percorso Almeno per questo primo anno Si concluderà A primavera dei teatri Dove questi tre lavori Poi debutteranno In prima nazionale Ci sarà una conferenza Internazionale Che coinvolgerà Tutti i partner Del progetto Insomma Un evento Abbastanza articolato Che poi si spalmerà Sul triennio E quindi prevediamo Di coinvolgere In questo progetto Tanti addetti I lavori regionali Soprattutto Il percorso Di Europe Connection È condiviso Col coordinamento Teatrale Che è approdato Anche nell'istituzione Della legge 19 Strumento che apre A nuovi spazi E nuove prospettive Artistiche Un tassello importante Per creare Una base solida Per tutta L'attività culturale E per fare in modo Che essa diventi Fonte di crescita Produttiva Ed economica L'idea è quella Di mettere a confronto La drammaturgia europea Contemporanea Con il teatro Contemporaneo Calabrese Per cui Abbiamo individuato Degli autori Insieme al nostro partner Che è Fabula Mundi Che è un grosso progetto Italiano Che si occupa Proprio della drammaturgia In tutta Europa Abbiamo individuato Dei drammaturghi Appunto Abbiamo scelto Dei testi Li abbiamo Dati In mano Alle compagnie Che naturalmente Secondo le loro poetiche Secondo le loro Esigenze artistiche Hanno trovato più affinità Con dei testi Piuttosto che con altri E in questa prima edizione Appunto Metteremo in scena Tre spettacoli Di tre autori Contemporanei Una Una francese Naturalizzata francese Un autore polacco Un autore Della Repubblica Ceca Tutti e tre viventi Tutti e tre che Verranno in Calabria A lavorare con le compagnie Seguite Seguite Da critici nazionali Per seguire Tutto il percorso Artistico E debutteranno A primavera dei teatri 2018 Tra maggio e giugno Insomma Da noi a Castrovillari E questa sarà La prima parte La prima tappa Di questo progetto Che avrà una durata Triennale Chiudiamo con il calcio Sarà Massa di Imperia L'arbitro di Crotone Atalanta Anticipo Secondo dei tre Della giornata Di sabato Perché si gioca Sabato Alle 18 Alle Zioscida Della quinta giornata Di ritorno Del campionato Di Serie A Massa Sarà aiutato Dai Dagli assistenti Giallatini e Preti Dal quarto uomo Chiffi A Lavar Come ufficiale Ci sarà Giacomelli E come assistente Costanzo Come detto Visto che abbiamo parlato Di chiusura col calcio Dall'ultima notizia Per questa sera Vi ringrazio per averci seguito E vi do appuntamento Con Infostudio A domani Alle 13.50 Buona serata Grazie a tutti